Per quanto riguarda la scuola, c'è stato un dibattito acceso, chiamiamolo così, col governo, dai trasporti alla scuola stessa. Oggi mi sembra che quello che sia più preoccupante sia la mancanza di professori. La questione organica è fondamentale per far ripartire gli istituti in tutta sicurezza e garantire il normale e corretto svolgimento della vita scolastica. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, ne è così convinto da sottolineare ulteriormente quello che, a suo dire, potrebbe rivelarsi un impasse insormontabile. Addirittura c'è stato un problema sulle gravatorie, diciamo che c'è stato un po' di ritardo per essere gentili con chi ha seguito l'amministratore di istruzione della faccenda, perché io ricordo che la conferenza delle regioni da marzo aveva chiesto l'UMI e ad oggi siamo ancora qui a cercare di capire quello che avverrà. La sfida poi, come riportato anche a livello nazionale, sarà sull'utilizzo dei test rapidi per un maxi tracciamento veloce, già ampliamente utilizzati in Friuli Venezia Giulia, anche se il risultato è un po' meno preciso del tampone tradizionale. Per i test rapidi ricordo che sono stati validati dallo Spallanzani, è vero che sono meno precisi del tampone tradizionale, però è chiaro che finché non avremo dei test infallibili, e neanche il tampone tradizionale lo è, sempre dobbiamo ragionare cercando di avere il maggior risultato possibile, il maggior risultato possibile dato anche dai tempi in cui questo può avvenire. Dunque il tampone rapido può essere una soluzione, chiaramente non sarà la soluzione definitiva, ma può essere un passaggio. Focus poi sul monitoraggio dei contagi. La regione ha potenziato l'utilizzo dei tamponi, cercando di velocizzare quel processo necessario per rintracciare il più efficacemente possibile tutta quella moltitudine di asintomatici che non sanno di essere covid positivi. Nel momento è l'unico strumento che abbiamo per fare un forte tracciamento e quindi andare a fermare subito i nuovi focolai. Devo dire che noi da subito abbiamo iniziato, rispetto ad altre regioni, a fare più tamponi ed oggi le abbiamo incrementate ancora maggiormente perché la parte del tracciamento è fondamentale. È chiaro che a questo si deve abbinare un comportamento virtuoso da parte di tutti, quindi distanziamento, utilizzo la mascherina, l'igiene, cercando di fare tutto quello che facevamo prima ma con le dovute precauzioni.